Scusate amiche, salvez, sono Hernando Porcon, me stavo esercitandos a far er mio movimentos perdigos quotidianos perché noi artisti e maestri della soluzione siamo così, siamo fatti così come er puffos. Allora ragazzis io oggi vi insegnerò la tecnica numero 2 delle nostre tecniche di seduzione e la tecnica di Ossis risale all'antica Sargentina dell'Agnos Ventos quando i nostri magios argentinos andavano dalle mulieres a esercitare il loro potere, il loro potere sessual è gra, scusate che mi pare per flamenco in sanguos. Allora ragazzis, ora vi spiegherò questa tecnica, sempre in questo contesto, il mio ero 2. Grazie a tutti. Grazie a tutti.